L'uomo della Cina non sbagliava mai, sembrava guidato da un computer, aveva un vantaggio incolmabile prima dell'ultimo colpo. Ma qui, il misterioso regista della commedia umana piazza il suo colpo di scena. I nervi d'acciaio si sgretolano, la mano trema e allora Roberto di Donna, che stava difendendo il suo argento, si avventa sulla preda. È il primo oro azzurro all'Olimpiade di Atlanta, mentre il povero Wang ha un collasso e finisce all'ospedale. Sta per cominciare la finale, chi assegna le medaglie nella pistola ad aria compressa, bersaglia a 10 metri, questo è un cinese Wang Hifu che conduce la classifica. Ha concluso la fase eliminatoria con 587 punti su un massimo teorico di 600. Lo seguono staccati di due punti un polacco, Yershi Pietrociak, eccolo inquadrato, e Roberto di Donna, il nostro di Donna che a lungo è stato al comando della classifica. Questa comunque è una tornata sicuramente favorevole a Roberto. Sa che quello che ammigna esperienza di tutti gli altri sicuramente paga il prezzo più caro. 9,7 per Wang, dunque di Donna recupera 9 decimi di punto sul cinese e in classifica resta quinto, però le distanze si fanno più limitate. Vediamo la classifica. Roberto è terzo, è già medaglia di bronzo in questo momento, anche se... andiamoci piano, intendiamoci. Due punti e nove di ritardo di Kiriakov su Wang e poi arriva di Donna. Quattro punti e un punto virgola uno dall'argento. E qui abbiamo intravisto un sorriso sul volto di Roberto di Donna e siamo a metà finale. Ancora 10,5, benissimo. 10,5 alla qui di Donna, 10,3 Pizianoff. Attendiamo adesso Wang. C'è Wang, 9,9. E qui ci sono sei decimi di punto guadagnati, chiaramente l'è. Il cinese è lontanissimo, 3,4. Comunque quello che conta di Donna per la prima volta in questa finale, secondo in classifica. Dopodiché tutti concentrati sul decimo e ultimo tiro. Sì, abbiamo assistito alla lettura dei colpi perché per regolamento il colpo deve essere letto linea per linea. Eccoci, siamo già allo start. Ultimo colpo, Roberto di Donna, Igor Basinski. 10,3 Pizianoff. 10,5 Pietrociak. 10,4 di Donna. Di Donna ce l'ha fatta. Medaglia d'argento per Roberto di Donna. Ce l'ha fatta, manca ancora Wang, ma ahi noi. Wang, non ho mai 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 importanza. È argento. Prima medaglia dunque per l'Italia a questi giochi olimpici di Atlanta. La conquista Roberto di Donna. È argento, possiamo già dirlo. Nella pistola da 10 metri, ad aria compressa. Adesso noi abbiamo già fatto un cenno a Roberto di avvicinarsi alla nostra postazione Wang. Attenzione! Wang 6,5. Wang 6,5. Vogliamo vedere la classifica? È oro! È oro! Roberto di Donna. Medaglia d'oro. È accaduto. Una cosa straordinaria in positivo per noi. Wang ha sbagliato completamente l'ultimo tiro. E dunque Roberto di Donna, eccezionale, vince la medaglia d'oro nella pistola ad aria compressa. Bersaglio a 10 metri. È accaduto una cosa incredibile. Incredibile. Dunque non è argento, è oro. Ed è il secondo oro per il tiro a segno italiano. Il primo risaliva, pensate, a Los Angeles 1932. Lo conquistò Renzo Morigi. Questa in assoluto è la sesta medaglia per l'Italia nel tiro a segno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.